Il Notaresco supera 2-1 la vastese e ritorna in zona play-out. Prima della gara ha premiato il portiere Shiba per le 100 presenze in rosso-blu. Alla prima occasione il Notaresco passa in vantaggio. Terzo minuto, calcio d'angolo e a centroare il più lesto e Defendi che insacca l'1-0. Il Notaresco continua a spingere. Al quinto, Shimia fa tutto da solo avanzando dalla tre quarti e concludendo dal limite, trovando la risposta all'angolino di Baiocco, poi lo stesso centrocampista al decimo. Tira però un rasoterra ben parato. La prima opportunità per la vastese arriva al ventiduesimo, azione prolungata e conclusione alta di Bracaglia dai 20 metri. Al ventottesimo ci prova ancora Bracaglia con una punizione dal limite però debole e centrale. Poi sul capovolgimento di fronte, Shimia in contropiede, conclude debolmente sul primo palo. Il finale di frazione è ancora del Notaresco. Al trentaquattresimo, punizione dalla tre quarti laterale di Pezzi, non la tocca nessuno e Baiocco si rifugia in angolo. Poi al quarantaduesimo è Gelsi che ai 20 metri si accentra e conclude trovando la rispinta di Baiocco. Nella ripresa alla prima vera opportunità il Notaresco raddoppia. Conclusione dal limite di Gelsi che Defendi sulla traiettoria devia, spiazzando Baiocco per il 2-0. La replica della vastese arriva al ventiquattresimo con un colpo di testa di Busetto fuori misura. Poi al trentatresimo Cardinale si invole in contropiede e giunto in aria, conclude alto in diagonale. Al trentasettesimo ancora Notaresco con una sponda di testa di Cardinale e la sforbiciata di Defendi che sfiera il palo. al quarantasesimo la vastese accorcia pallavagante e conclusione da fuori aria di Busetto col palo gol del definitivo 2-1.